ma accenditi ostia madonna ma che cazzo fai la luce blu ma vaffanculo no non mi piace cambiamo fantastico non si vede un cazzo l'idea originaria del video era di introdurvi in un'atmosfera molto molto lugubre e molto terrorizzante per vivere a pieno le atmosfere di questo halloween 2024 ma l'unica cosa che sono riuscito a realizzare è accendere una lampadina rossa e dare l'effetto di un film porno di bassa lega allora cerchiamo di spiegare bene come funziona questo video in pratica quello che mi è venuto in mente è di fare un salto dentro a playstation store e vedere tutti quei giochi che sono stati annunciati per entrare nel programma dei sconti relativi ad halloween 2024 ma soprattutto mostrarvi dei titoli che io già ho dato un'occhiata e sembrano veramente più terrificanti di un resident evil 4 o semplicemente di un nuovo DLC di Hogwarts Legacy che nessuno vuole più ma soprattutto vorrei mostrarvi tutti quei giochi di merda che sono annunciati e usciranno dentro al playstation store e vorrei capire chi cazzo andrà a comprarli allora la prima cosa che andremo a fare è accendere la nostra playstation 5 modello barbone perché ovviamente se non avete la pro sete dei barboni tra l'altro da notare il lettore disco non lego e la prima cosa che andiamo a notare è che a quanto pare mi ero dimenticato di spegnere bene la console ottimo così dai e ovviamente la prima cosa che salta fuori qual è? premi il tasto ps per usare il controllo la tua ps5 non è stata spenta correttamente quindi probabilmente mi sarò addormentato un'altra volta col tuo impale in mano oppure boh sarà schioppato qualcosa non lo so riproviamo dai inizia bene il tuo video ottimo bene così e finalmente ce l'abbiamo fatta ad arrivare nel playstation store tanto decantato da sony e andiamo a vedere quali sono le offerte per festeggiare al meglio questo halloween che ci farà risformare fino all'80% di sconto cioè dai non male abbiamo Outlast Reals a 24,78 Resident Evil 4 remake a 19,99 un ventello per Resident Evil 4 merita tantissimo abbiamo Dead by Daylight che a quanto pare ho acquistato e mi vergogno anche di possederlo sempre per festeggiare halloween Fallout 4 chi è che non vuole giocare a Fallout 4 il giorno di halloween è il gioco perfetto per halloween se avete voglia di affettare zombie potrete acquistare Dead Island 2 ottimizzato ovviamente per playstation 5 pro chi è che non vuole giocare con playstation 5 pro con Dead Island 2 su via 85 giga dai che fanno per voi dai su via e ricordatevi che l'offerta termina il 2 di novembre non fatevi scappare questi sconti MANIFICI ma soprattutto se in questi giorni avete problemi di stitichezza non perdetevi gli sconti riguardante The Quarry al prezzo di 9,74 euro un ottimo gioco che vi farà andare direttamente al bagno per quanto fa schifo questa trama godetevelo e cagate in libertà ah tra l'altro ovviamente se volete proprio festeggiare halloween c'è Robocop Rouge City che è proprio il titolo perfetto per halloween e ovviamente quale titolo migliore per festeggiare halloween se non giocare a Cut Quest 3 compratelo perché è scontato di 4 euro wow 4 wow però tra i giochi belli presenti nel playstation store vi segnalo a 7,99 euro inscription un gioco che io ho amato e che consiglio a tutti di comprare però noi non siamo qua per parlare di videogiochi belli e in sconti da suggerire a voi quello che vi voglio far vedere è il mondo strano che aleggia attorno al playstation store di solito di giochi appena annunciati che non si sa la provenienza ma soprattutto non si sa verso quale pubblico indirizzato se è un pubblico che non è mai puntuale o un pubblico di amanti della coprofagia per scoprire questa fantastica sezione basta andare un po' più in giù nella sezione raccolta e arriveremo ai giochi da aggiungere alla lista dei desideri basta fare visualizza tutto e avremo titoli come ambulance 9-11 insomma simulator paramedic dove potremo vivere le gioie di guidare un'ambulanza perché fare del volontariato vero quando potremo giocare un gioco di simulatori di cui tra l'altro c'è una borsa dell'acqua calda in faccia a questo morto poi tra l'altro mi fa troppo ridere il tizio nello sfondo che cammina come se niente fosse in mezzo alla merda ma va bene e poi abbiamo card mart tcg supermarket tra l'altro con l'immagine di copertina creata con chat gpt non lo so se andate a vedere le immagini del gioco vedrete sto tizio vestito in un modo orribile la tizia che tiene i soldi proprio come se reggessi la carta igienica dopo aver cagato è semplicemente un gioco che potrete trovare su steam dove voi dovete comprare delle carte tra l'altro tsunami crust lin lumio ma tra l'altro guardate che cazzo di immagine hanno messo per vendere il prodotto ma dai ma come può invogliare una persona a comprare il gioco ma soprattutto guardate che cazzo di gatti di merda abbiamo anche il raccoglitore bello bellissimo era lui con la maglia mezza dentro mezza fuori che vuole comprare le carte più che altro questo mi sa che ci vuole inculare il negozio dato che non ci basta vivere l'emozione attraverso un videogioco dove dovevi collezionare delle carte in stile pokemon possiamo comprare Clothing Store Simulator Manager cioè in pratica io vado a comprare un gioco dove devo gestire un negozio di obbligamento tra l'altro non c'è nemmeno un'immagine non c'è nulla niente data 2026 quindi fra due anni bellissimo oh questi sono i giochi che adoro io Survival Gladiator Blades of the Collision Stadium ma guardate che bello ma guardate lui che mega pacco ha un pacco enorme da quando sembra che si stia infilando le spade degli occhi per dire ammassami prima di voler fare sto ciapta del cazzo questo non so nemmeno io come descriverlo pubblicato da Goose Game LTD Step into a World Charming Girls and Craft Your Love Story che cazzo devo fare mi devo segare su di voi qual è il mio obiettivo Anime Love Girls qual è l'obiettivo oh Architect Design Simulator Build Dreams Design Spaces distribuito dalla SRL Random Spin Game perché c'è la succursale dell'Eurospina di videogioca tra l'altro un'immagine evocativa che vi fa venire voglia di aggiungerlo proprio lo giungo io aggiunto l'E oh bello questo Big Gym Simulator guarda tra l'altro che copertina maschia e qui abbiamo un problema guarda il mondo attraverso gli occhi di un gatto tra l'altro sto gatto realizzato Coco Pilot di Microsoft disposto guardate che schifo ti puoi anche leccare sei stato beccato obiettivo fallito poverino c'aveva ragione i bigazzi comunque ah che bello puoi anche rovinare i divani ovviamente io devo sorridere della gioia che mi ha rovinato mille euro di divano bello bravo bello ah e soprattutto come obiettivo potremo anche leccarci cioè dai è un bellissimo gioco oh guarda che bello Granny Escape con scritto Return sullo specchio con tutte le mani insanguinate tra l'altro sblocca le porte evita la nonna e sopravvive all'incubo ma guardate quanto sono brutte ste cazzo di immagini vendute nel playstation store se non è un plagio ad Ellie di The Last of Us questo non lo so Infected ah che bello non si legge nemmeno la scritta sui palazzi proprio intelligenza artificiale a go go Infected è un emozionante sparatutto in prima persona in cui il giocatore si ritrova nel mezzo di un mondo spaventoso inghiottito da un'epidemia di zombie il gioco offre una combinazione unica di sparatori intense sopravvivenza intensa e strategie attentamente pianificate ho capito è descritto appena un gioco di merda dalla Gaming Dev SRL bellissimo per tutti quelli che dicono che i giochi da ragazzine sono sprettamente per il mercato Nintendo vi mostro Makeover Fashion Project progetta stila e brilla il tuo viaggio nella moda ti aspetta ovviamente nessuna immagine del videogioco prodotto dalla Goose Game Scorpion Champions Island Warfare guerra sull'isola distruggi gli scorpioni governa il paradiso bello che in pratica vi fate la guerra tra scorpioni e non si sa perché ci sono l'estate con dei lupi crea sti giochi ma soprattutto quando si mette lì a disegnare sto gioco non sta dicendo guarda mamma sto gettando la mia vita mamma mi pagano per fare un lavoro di merda mamma non verrò mai ricordato per questa cosa guarda che bello ma come cazzo puoi fare un gioco dove sei un granchio che tiene in mano un mitra un mitra se vi è piaciuto tanto il film Terminal quello con Tom Hanks comprate assolutamente il videogioco Life in Terminal Simulator intrappolato in transito il tuo viaggio verso il terminale inizia ora dovrete rivivere le stesse cose del film Terminal senza i sentimenti senza una buona regia ma soprattutto senza il buon Tom Hanks dovrete fare le stesse cose del film accumulare dei soldi per poter uscire dal Terminal degli aerei ma perché tra l'altro che è stato a cielo sembra un cazzo a Natale non chiedete nuove console a Natale non chiedete nuovi videogiochi oppure titoli che sono usciti durante l'anno che meritano i vostri soldi voi andate da Babbo Natale e gli dite Babbo comprami Internet Caffè Manager 2025 guardate che cazzo d'immagine hanno messo in copertina nemmeno le cuffie gli stanno in testa sto tizio ha gli occhi storti e le cuffie che volano nell'aria io non lo so e soprattutto c'è anche un gameplay bello ma guardate che grafica ray tracing VRR FSR altre R vedete voi possiamo pulire per terra raccogli tutto spazzola poi possiamo accendere del pc si avvia poi possiamo in pratica è una brutta versione di house flipper perché perché denigrare così house flipper che ti ha fatto house flipper come vi ho detto oggi il 29 ottobre e in America non sono ancora usciti gli exit poll per dire e decretare qual è il nuovo presidente degli Stati Uniti ma il playstation store divulga un videogioco dove già dice chi ha vinto direttamente ha vinto Trump con the glory of America defend America blast zombie in new york voi tenete Trump e dovete sparare degli zombie potete essere anche un cechino usare anche un bazooka ma guardatelo è come nella vita reale the glory of america dalla srl random spin indie games ma questi quanti cazzo di giochi stanno facendo è giunto il momento dei saluti ma non prima di avervi fatto vedere il gioco più bello che c'è all'interno del playstation store turbo chicken simulator esplora il vasto mondo aperto come un pollo super patente eeeh Grazie per la visione Grazie per la visione